ben tornato ancora una volta amico mio a questo corso di crescita personale online gratuito e a questa determinante puntata dal titolo come parti per il viaggio e grazie ancora una volta per la fiducia che mi dimostri perché basilare in questo in qualsiasi altro dei nostri percorsi bene nel video precedente se ben rammenti abbiamo parlato di dove sei tu attualmente e dove dovresti già decidere di voler arrivare per direzionare così i tuoi sforzi in tale direzione abbiamo spiegato e spero che tu abbia imparato a distinguere nettamente gli inconsapevoli dagli aspiranti dominati spero che tu abbia capito in quale categoria sei attualmente e poi abbiamo visto come mettere il turbo al cambiamento tramite la chiarezza la nitidezza dei propri obiettivi pianificati se hai segnato tutto possiamo andare avanti e ti pregherei di iniziare ovviamente dal video numero uno per dare un filo logico al ragionamento e comprendere così tutti i processi spiegati grazie in questo importante incontro affronteremo il come parti cioè la situazione in cui sei a tua mente quello che ha chiamato in tutto il corso esistente mente come punto zero cioè il tuo punto iniziale il punto dove sei attualmente ora ciò è importantissimo infine dell'equilibrio personale e poi affronteremo l'innovativa mia curva del benessere globale per far collimare il tuo punto di partenza e poter misurare così i miglioramenti futuri ok vorrei ribadirti che in questo video corso nulla è casuale ma tutto attentamente considerato perché il bilanciamento di se stessi non è un qualcosa di grossolano ma è stato accuratamente soppesato il mio proposito è quello di approfondire nozioni e metodi per permetterti di librarti agevolmente come me su quel sottile cavo sul barato della vita e garantirti anche un ancoraggio sicuro come fossi un funambolo professionista per non farti rovinare malamente giù di sotto questa mia sicurezza nasce dal fatto che ho dovuto affrontare studi fisiologici psicologici spirituali e comportamentali ma l'atto più difficile è consistito nel mescolare tutti questi distinti dati in un percorso semplice che avesse potuto aiutare il lettore ascoltatore e non disorientarlo ulteriormente forse solo a questo punto del percorso potreste aver compreso il motivo secondo il quale sono partito dall'approccio mentale dal determinante mindset perché dovresti essere arrivato a questo punto già con una diversa consapevolezza rispetto all'inizio e magari con aspettative differenti per il futuro qualora avessi eseguito la lettera tutte le mie chiare indicazioni probabilmente anche tu come molte altre persone identifichi erroneamente l'equilibrio con il termine tranquillità vero niente di più sbagliato perché l'essere tranquilli è una condizione transitoria di calma di quiete che può essere turbata facilmente da una situazione interna o esterna che ha necessariamente bisogno di un intervento per tornare alla stasi fai attenzione perché l'equilibrio mentale e invece è uno stato di quiete dato dalla risultante di più vettori di cui il soggetto già conosce l'effetto queste diverse forze sono molteplici ed hanno un peso differente per ognuno di noi spiegherò meglio quali sono e come imparare a modularli singolarmente per bilanciarle armonicamente ma perché l'equilibrio è così importante l'equilibrio mentale è fondamentale per il nostro benessere globale ed è vero anche il contrario a tal punto che si identificano vicendevolmente sviluppare un buon equilibrio mentale aiuta anche ad affrontare i problemi e le difficoltà più velocemente più consapevolmente senza mai crollare ora ti stupirò dicendo che l'organizzazione mondiale della sanità oms definisce la priorità numero uno dell'uomo la salute come appunto il bilanciamento tra stato fisico mentale e sociale della persona ripeto il bilanciamento dello stato fisico mentale e sociale della persona e non come una semplice assenza di malattia qui è in gioco non solo la nostra integrità psichica ma la nostra stessa esistenza libera da stati patologici a tal proposito ti vorrei formulare una domanda nodale a cui gradirei rispondersi interiormente sei pronto hai mai notato che rincorri il benessere solo in alcuni settori della tua vita mentre ne trascuri altri metti in pausa e pensaci qualche secondo spero che tu abbia dato delle risposte ma vorrei farti degli esempi sei sempre lavoro per sostenere tutti ok ma trascuri la tua salute oppure la tua famiglia che si abitua a fare te oppure tipo fai tanto yoga e non pensi al sostentamento economico oppure sei soddisfatto dei tuoi affetti ma provi grande frustrazione per la tua insufficiente produttività eccetera facci caso siamo super attivi in alcune aree della nostra vita e carenti in altre nelle quali nascono vere e proprie emergenze che spesso deteriorano l'equilibrio psicologico con il conseguente insorgere di veri malesseri la stabilità mentale germoglia e si sviluppa in situazioni nelle quali l'essere ha il totale controllo e attento in tutte le aree della vita perché conscio di non poterne trascurare nessuna riuscendo così ad esprimere pienamente il proprio potenziale a breve svelerò queste aree e ti proporrò un bel test di mia personale invenzione grazie al quale vedremo come liberarsi completamente dai pensieri e delle emozioni negative per capire come schermarsi con quelle positive creative favorevoli non vorrei dilungarmi in cervellotiche ed inutili distinzioni ma sappi solo che ci sono diverse tipologie di equilibrio tipo conativo attenzionale cognitivo ed emotivo c'è il più importante perché è la risultante di tutte le altre tre che tra desideri pensieri e azioni porta ad essere consapevoli e saper gestire le emozioni che stiamo vivendo come fare a coltivare questa ricerca secondo la nostra vision sarà essenziale dare maggiore priorità al te stesso individuale e alla tua salute le parole giuste dovranno essere improntare un nuovo e cosciente stile di vita improntare un nuovo e cosciente stile di vita scrivilo un possibile modello potrebbe tener conto della scoperta di chi siamo veramente qual è il nostro scopo l'eliminazione delle futilità la rimozione del giudizio degli altri il dipendere solo da noi stessi l'essere più grati l'altruismo la ricerca della vera felicità lo sviluppo di un atteggiamento positivo il raggiungimento della serenità e il coronamento dei nostri grandi obiettivi che saranno trattati all'inizio del corso completo di crescita personale ma prima di intraprendere il concetto di benessere permettimi al solito di presentarmi sinteticamente sorrido perché sono sicuro che vai avanti ora bene sono tornino corriere autore best seller amazon e audible con diversi titoli creatore del portale investosudime.com ed ideatore di questo percorso di crescita personale introduttivo totalmente gratuito che prelude al corso completo dal titolo inequivocabile come cambiare vita in 30 giorni che è con un metodo unico facile veloce garantito aiuta insoddisfatti a direzionare la propria trasformazione per pretendere qualcosa in più in tutti e nove i settori della propria vita per sé e per i propri cari fai molta attenzione adesso perché affronteremo il concetto di benessere e punto zero infatti fin dagli albori dei miei studi scolastici specie quelli intrapresi alle superiori per divenire termotecnico o probabilmente starei pensando ma chi è il termotecnico te lo spiegherò a breve infatti durante quegli studi compresi precocemente l'importanza del benessere personale ovviamente studiando essenzialmente in modo banale materie come riscaldamento e climatizzazione approcciai a quella che in gergo tecnico si chiama curva del benessere termico e ne rimasi da subito affascinato ti consiglio di cercarla pure su google e sul mio portale tra i miei allegati detta curva è la risultante di diversi fattori che combinati tra essi con diversi valori evidenziano un'area di comfort nella quale finalmente un essere umano percepisce di essere completamente a proprio agio come una vera comfort zone memori di questi affascinati studi dopo anni ho pensato di ideare creare una curva che potesse portare chiunque al benessere personale totale e non solo termico cimentandomi in corsi e studi per approfondire la materia il risultato è davvero strabiliante perché in pochi minuti fermo restando la tua assoluta sincerità con te stesso potrai comprendere il celebre tuo punto zero di partenza per quantificare poi i miglioramenti successivi infatti l'unico modo per poterlo fare è quello di sondare il tuo attuale livello di equilibrio in tutte le branche fondamentali chiunque pensi che la propria vita sia idilliaca tramite questo test potrebbe scoprire forse che manchi qualche importante tassello alla vera definizione di quella che chiamo vita in equilibrio tra cuore e cervello ok bene come ti senti in questo momento del tuo viaggio di vita se fossi più cosciente ti sentiresti meglio certamente sì questo utile potente divertente esercizio interiore che ho già sperimentato con molte persone con risultati incredibili ti aiuterà proprio in questo ti assisterà nell'auto valutazione della tua consapevolezza negli ambiti più importanti della vita ti concederà un'analisi interiore da una prospettiva più generale per comprendere gradualmente le aree che la compongono e nelle quali dovrai focalizzarti maggiormente per ristabilire una sorta di equilibrio instabile chiamato vita felice come vedi qui in foto al mio fianco ogni area di colore differente non necessariamente disposta per importanza rappresenta un aspetto della tua esistenza esaminandoli ad uno ad uno ti renderai conto che questo non è il solito test inconcludente per di tempo il benessere personale totale si valuta tramite la ricerca delle eccellenze in quante più categorie possibili tra quelle che esplorerai di seguito passerai la trattazione di ogni singola area ponendo in essere una vera e propria autovalutazione con tanto di voto nelle tre sotto aree di ognuna dopo opportune approfondite riflessioni personali dovrai valutare ogni sezione e non esiste un moto oggettivo per misurarle sarà una valutazione del tutto tua personale in una scala da 0 a 10 pensa alla risposta in riferimento ovviamente al tuo grado di soddisfazione in quel determinato ambito dovrai annerire con una penna o una matita i tasselli fino al voto attribuito ripetendolo per tutte le colonne e alla fine visualizzerai una curva sulla quale saprai magicamente dove focalizzare le tue attenzioni per modificare i dati insufficienti l'obiettivo personale sarà arduo ma soddisfacente dovrai portare tutti i valori tra la sufficienza e l'eccellenza in un periodo da te determinato al massimo di un anno da oggi infatti dovrai scriverci anche la data il test lo potrai trovare sia sul nostro amazon best seller in verso su di me sul nostro corso completo oppure gratuitamente sul nostro portale omonimo digitando nel box di ricerca appunto curva del benessere ti chiedo infine di effettuare questa valutazione ogni trimestre per verificare i miglioramenti e il tuo accrescimento periodico che ti darà la spinta a nuovi e più ambiziosi obiettivi ebbene congiungendo i massimi ottenuti evidenzierai la tua personale curva del benessere globale che chiameremo CBP sviluppata in histogrammi quando avrai terminato guarda e analizza attentamente la tua curva era molto che non facevi un check up vero? sei deluso? sei contento? che sentimenti ti induce? cosa ti suggerisce da subito? se non hai ancora fatto questo benedetto test metti in pausa e vallo a scaricare subito e poi magari continuo questo video visivamente infatti noterai quali sono le aree prioritarie in cui dovrai focalizzare il tuo intervento non ti preoccupare la maggior parte delle prime curve del benessere probabilmente saranno pesantemente sbilanciate oppure non sei stato abbastanza sincero è nella natura della gente privilegiare degli aspetti trascurandone altri ma l'importante è rendersene conto per sopperire quanto prima ma non penserai sia finita vorrei regalarti una nuova grande scossa prima della fine di questo corso gratuito tramite un nuovo e semplice test per sondare le tue priorità ed aiutarti a pervenire all'equilibrio ora memore dei risultati appena ottenuti con la curva del benessere rifletti sulla tua vita come fossero nove pietre levicate ed impilate una sopra l'altra in instabile bilanciamento come la foto qui al mio fianco dovrai comprendere quanto prima come rimediare gli squilibri specie se trattasi di arie per te importanti una spinta propulsiva te la potrebbe concedere il fatto di ripetere il test come se fossi proiettato indietro di tre anni o a quando vuoi tu una domanda importante da farsi ora è dove vorresti essere tra tre anni la curva del benessere ti permetterà già da ora di lavorare su te stesso ma proseguire con i nostri corsi ti aiuterà a progettare e realizzare la persona che hai sempre desiderato essere non è uno scherzo ho già aiutato centinaia di persone e tu potresti essere solo che il prossimo mi sembra doveroso farti notare una cosa che ritengo sostanziale cioè che ognuno di noi attribuisce un peso differente ad ognuno dei diversi ambiti ok? vi sarà colui che darà più peso alla famiglia colui che darà più peso allo stato fisico e molti altri pederigeranno il lavoro magari senza curarsi minimamente degli affetti che hanno bisogno innanzitutto del tuo tempo della qualità della tua presenza e poi dei tuoi soldi come ho peraltro già evidenziato nel test i settori della vita non sono stati posizionati in ordine perché? perché ognuno di noi ha un personale ordine di importanza ecco a questo proposito ti formulo una nuova domanda a cui come al solito gradirei rispondessi dopo averci pensato un po' secondo te tra i nuovi settori qual è l'ambito più importante di tutti? e fai attenzione perché avrei già risposto a questa domanda qualche video fa ma per aiutarti mi spiego meglio facciamoci tornare in mente l'esempio fatto poc'anzi cioè che il bilanciamento della vita sia dovuto alla stabilità di 9 pietre redicate impilate una sopra l'altra come in foto ok? ti chiedo ora di disegnare schematicamente su un foglio la tua personale idea di equilibrio inizia a disegnare dalla pietra o dalle pietre base su cui poggeranno tutte le altre quella o quelle che ritieni essere le più importanti ma non necessariamente le più grandi ecco un mio esempio ma per favore non farti condizionare in questa o queste prima illissi dovrai scrivere all'interno quello che secondo te ritieni essere il settore più considerevole nella tua vita tra i 9 ovviamente dai sfogo alla tua creatività supportata alle tue necessità primarie personali qualora tu abbia già fatto procedi con la seconda la terza e così via fino alla nona badando alla grandezza della pietra più è alta l'insufficienza e più grande sarà la pietra che rischierà di mettere al mentale l'equilibrio e di far cadere anche le altre comprendi? per le leggi della fisica e per il cervello sarebbe impensabile disporre delle grosse pietre in alto ma il cuore se ne frega procedi e termina la tua opera d'arte che ritrarrà la tua personale scalata all'equilibrio magicamente e forse senza neanche accorgertene avrai tracciato la tua rotta sovrapponendo diversi bisogni secondo un tuo ordine risultato? già da oggi potrai iniziare a focalizzarti sulle carenze delle pietre più in basso e poi via via salire questo è un metodo vincente solo così percepirai di avere già delle mete nel tuo mirino obiettivi chiari e delineati e tutti i tuoi sforzi iniziali dovranno essere concentrati verso tale direzione nel mio personale equilibrio la pietra principale la necessità primaria per l'essere umano è il fisico e la relativa salute sono pienamente consapevole che ti sto condizionando ma dimmi un po' se ne possa esistere una più rilevante nella nostra labile esistenza credo proprio di no tutto il nostro mondo il nostro credo la nostra produzione i nostri averi le nostre aspirazioni dipendono dalla qualità della nostra salute dall'efficienza del nostro fisico dalla dimora della nostra anima non conosco le tue condizioni fisiche e mi dispiacerebbe davvero sapere che soffri di patologie croniche debilitanti ma comunque potrai e dovrai chiedere il massimo dal tuo organismo con parere medico ove ritenuto opportuno la cura del proprio fisico non è facoltativa ma obbligatoria in coloro che ammettono di voler intraprendere un percorso di crescita i multimiliardari investono patrimoni in aziende che possano preservare la propria salute il proprio futuro ma ahimè la gente muore a prescindere dalla proprietà e dal proprio conto corrente la salute è un dovere di tutti il primo vero obiettivo da raggiungere la prima grande soddisfazione abitudinaria a cui dovrai ambire seguendo i molteplici consigli che arriveranno nei percorsi seguenti infatti quando mi chiedono Tony da dove devo iniziare per cambiare la mia vita quasi sempre consiglio di concentrarsi sul cambiare le proprie abitudini errate rispetto alle aree di maggiore importanza personale ognuno ha le proprie visioni o mappe del mondo le proprie esigenze le proprie aspettative ed obiettivi specifici non si possono impacchettare cambiamenti standard e preconfezionati uguali per tutti ma ognuno deve trovare la strada che lo possa soddisfare al meglio e questi due test saranno un bel colpo sull'acceleratore una cosa è certa ed indissolubile la fallibile salute deve rivestire un carattere di assoluta preminenza su tutto questo è il nostro punto fermo l'unica nostra certezza la famosa prima pietra sulla quale poggeranno tutte le altre infatti tutti i miei più grandi mentori la totalità dei motivatori più riconosciuti sul globo terrestre evidenziano che ciò che facciamo sul nostro corpo appena svegli è in grado di influenzare la produttività la positività i livelli di energia per tutto il resto della nostra giornata e così repetitivamente per tutti gli altri ambiti tutti dico tutti i coach chiamano questa serie di abitudini efficaci e personali con un nome internazionale specifico morning routine abitudini del mattino infine senza grandi giri di parole per avere dei risultati veloci nella direzione del miglioramento della propria vita dobbiamo focalizzarci dapprima sull'investire nella conoscenza di se stessi che tenderà a voler perfezionare primariamente la nostra salute tramite nuove routine del mattino quelle che io chiamo abitudini chiave per scardinare tutte le altre cattive consuetudini che porteranno come risultante l'inizio di una nuova splendida vita costellata di soddisfazioni e successi personali questa secondo me è la facile soluzione a tutto ricapitolando questo che è forse il video più importante del minicorso abbiamo visto che se vuoi davvero direzionare la tua metamorfosi dovrai 1. fare tuo il concetto di benessere personale globale 2. effettuare con cura la curva del benessere personale 3. elevare la consapevolezza del tuo punto zero di partenza 4. conferire un tuo punteggio ai nuovi diversi ambiti della vita 5. disegnare la tua personale idea di equilibrio impilando le nuove pietre per determinare la tua personale rotta del viaggio 6. infine dovrai comprendere l'enorme importanza della pietra principale perché quella sarà la vera leva al tuo futuro nel prossimo video vedremo quali sono state le mie motivazioni e la mia personale storia che mi ha indotto a produrre questo impegnativo percorso ti farò comprendere come e perché sono partito io e come ho capito dove sbagliavo qual è stato il mio più grande salto di qualità e come ho coronato i miei sogni tutto ciò non per autocelevarmi ma per ispirare te nel tuo percorso perché come ci sono riuscito io che non sono una cima certamente potrai riuscire anche tu infine se sei stanco e insoddisfatto di te stesso e vuoi mettere il turbo alla tua vita allora non perdere tempo vai su investosudime.com pagina videocorsi partecipa al sondaggio per avere una nostra consulenza gratuita sull'eventuale acquisto del corso completo e gratuito di crescita personale augurandoti work hard cioè di lavorare duro su te stesso ci vediamo al prossimo importante video per un buon inizio di trasformazione da bruco a farfalla un grande abbraccio da Tony di investosudime.com un grande abbraccio da Tony di investosudime.com